E se una non si uniforma, è comunque strano. E la mamma, anche lei, non è che avesse grande attrazione per i bambini. Cioè, dite siamo rame secchi, parliamone! I bambini non mi piacciono, io non piacciono i bambini. Cioè, preferisco i gatti. Una donna che non aveva figli era una donna che non aveva motivo di esistere. Non ho figli, non li ho mai avuti e non li avrò. Ti devi ridefinire che cosa sei se non sei una mamma, che cosa sei se non sei una moglie. Non adica se è una bellissima parola. Sono non adica! Sono non adica perché sì. Ancora dove ho 설arto. Ancora dove prova. Si, e va accesso all'interno per i bambini. Ancora dove. Ancora dove. Ancora dove. Ancora dove. Ancora dove. Ancora dove.